E' iniziato l'ultimo decisivo disperato giorno utile per completare la domanda di iscrizione alla prossima Lega Pro. Oggi alle 19 la scadenza entro la quale la regina dovrà onorare i debiti contratti nella passata stagione e presentare una fideiussione da 400.000 euro in FGC unita ad un assegno dell'importo di 9.000 euro. Pena l'esclusione dal calcio professionistico. Dopo i segnali positivi registrati nella giornata di ieri e nelle ultime ore la situazione sarebbe progressivamente peggiorata. Mancano gli accordi per chiudere conti con i tesserati. Diversi da Dionigi ad Alberti non avrebbero accettato la proposta del club amaranto. Nessuno di loro vuole perdere un euro. Una pretesa sacrosanta e benedirlo che rischia tuttavia di affondare 20 anni di gloria. Di fatto nelle tasche societarie mancherebbero circa 500.000 euro. Forse qualcosa di più. Di sicuro nulla di meno. Nella notte Lillo Foti avrebbe avviato un disperato tentativo per coinvolgere Nick Scali, l'uomo a capo di una cordata di imprenditori astroliani che per settimane ha fatto sognare un futuro luminoso ai tifosi amaranto. L'uomo che stando le notizie trapelate nella giornata di ieri avrebbe dovuto colmare la differenza tra la somma raccolta e messa a disposizione della regina dall'ex numero uno del coni calabrese Mimmo Pratico e la mole debitoria esistente. Ma il tentativo non sarebbe andato a buon fine. Stamattina la corsa disperata che porterà fino alle ore 19. Il rischio che la regina possa aggiungersi alla già lunga lista composta da Monza, Castiglione, Grosseto e Barletta fuori dal torneo di Lega Pro a cui si uniranno verosimilmente Venezia, Varese, Real Vicenza e Martina Franca resta altissimo.